5 curiosità incredibili sui pinguini crestati Numero 1. Riconoscimento tra compagni Utilizzano richiami vocali e la cresta di piume gialle per identificare i loro compagni di colonia Numero 2. Dimensioni Questi pinguini sono di dimensioni medie, con un'altezza che varia tra i 50 e i 70 cm Numero 3. Abilità subacquei Possono immergersi a profondità considerevoli durante la caccia, spesso raggiungendo i 100 metri o più Numero 4. Nidi di pietra Costruiscono i loro nidi con pietre per proteggere le uova e i pulcini dal freddo e da eventuali predatori Numero 5. Piumaggio impermeabile Hanno un piumaggio denso e impermeabile che li protegge dall'acqua fredda durante le immersioni Iscriviti a What's New per non perderti altre curiosità sul mondo animale